E' un sogno ragazzi, è un sogno, non ci posso credere Hakimi all'Inter ragazzi, no è un sogno, perciò posso spaccare tutto ragazzi Non può essere, non può essere vero ragazzi che questa maledizione Questo incubo che da anni abbiamo veramente dei terzini scandalosi ragazzi E' un incubo che non sembrava mai di finire Valles, Dodo, Santos Anton, Montoya, Dalbert, Kakatomo ragazzi Basta, ok, addio monetizzazione, per questo video ovviamente niente monetizzazione Mi scuso per tutti i minorenni, ragazzi non può essere, io non ci posso credere ragazzi Deve essere un sogno, secondo me sto sognando Ragazzi non sto sognando, sembra tutto vero ragazzi Ovviamente finché non è arrivato, finché non lo vedo con la maglia nera azzurra Io ancora non ci posso, non ci voglio credere Però bellissime fonti, Gianluca Di Marzio, tutti quanti dicono che praticamente è tutto fatto ragazzi Da Italo Crucco, ovviamente lo conosco molto bene dal Borussia Dortmund Perciò in questo video analizziamolo un pochino ragazzi Ah, la cosa più bella, la cosa più fantastica serve veramente No, poi io ovviamente mi butto dalla fine No, vabbè, questo non lo devo più dire Comunque ragazzi, se quello dovesse succedere Pensate se dando i 5, Hakimi gioca con i 5, i 5 di Cagliardini a Hakimi Ragazzi sarebbe troppo bello, sarebbe veramente troppo bello Analizziamolo un pochino, ripeto io lo conosco molto bene della Bundesliga Dovete sapere che è stato uno dei motivi per cui io mi sono messo su Youtube Perché mi dovevo sfogare quando vedevo tutti questi terzini veramente scandalosi Secondo me negli ultimi anni il problema più grande dell'Inter sono stati i terzini È stata una maledizione, abbiamo provato di tutto Tutti sono arrivati e si sono messi sul cesso, si sono messi a cagare Non solo sul cesso, sul campo trappertutto Ragazzi terzini all'Inter è stata una maledizione Adesso leggo Hakimi, Hakimi all'Inter ragazzi Io non ci posso ancora credere, perciò sono ancora scettico Non ci posso ancora credere Comunque analizziamolo un pochino ragazzo di 21 anni Molto young, molto giovane Quello veramente young, non ha bisogno di scriverlo sulla maglia Poi alla fine non è tutto vero come quell'altro young Che si dovrebbe chiamare old Questo è veramente young ragazzi 21 anni, young nell'ultima partita è entrato Un altro di quei terzini lì è entrato con il compito solo a regalare il rigore al Sassuolo Questo era il compito di young Io una cosa del genere non l'ho mai vista ragazzi Questo qui entra e fa di tutto per regalare il rigore al Sassuolo Qualcosa di assurdo, qualcosa veramente di incredibile Ashley Young che devo dire ovviamente non è un Hakimi Non è uno che spinge tantissimo, che è rapido come Hakimi Poi anche vecchio eccetera Manchester United ragazzi è stato capitano per un paio di anni Però diciamo è stato que Manchester United dopo tanti anni gloriosi Che ha fatto veramente cagare Perciò nella tifosia del Manchester United Lui è diventato un po' il simbolo di questo Manchester che è caduto in basso Però devo dire che Young il suo l'ha sempre fatto Anche fino adesso era abbastanza affidabile Ma adesso non so, questa maledizione Questa malattia di tutti i terzini che fanno cagare Ha colpito anche lui E l'ha dimostrato al 1000% nell'ultima partita Perciò finalmente un giocatore veramente Young Che si chiama Hakimi ragazzi Proprietà ovviamente ancora del Real Madrid Ultime due stagioni in prestito Ha giocato il Borussia Dortmund La cosa bella è che lui vuole giocare a calcio Perciò potrebbe essere veramente la chance Che lui non torna al Real Madrid Perché lì sulla corsia a destra c'è Carvajal Eccetera C'hanno tantissima qualità Lui vuole giocare Adesso arriviamo al punto più bello Che voi conoscete tutti ragazzi Lui è incredibilmente rapido ragazzi È veramente qualcosa di incredibile Insieme con Alfonso Davis È il giocatore più rapido della Bundesliga Supera i 36 km all'ora Quattro mesi fa l'hanno misurato addirittura 36,52 km all'ora Il più rapido giocatore della storia della Bundesliga Della storia della Bundesliga Devo essere onesto Hanno iniziato a misurare Nella stagione 2013-2014 Prima non avevano i mezzi eccetera Però da lì è stato il giocatore più rapido È una bomba ragazzi Lui i suoi 10 km A partita spesso li fa Cioè uno che veramente Su quella corsia a destra Poi è molto flessibile Può giocare a sinistra Può giocare a destra Comunque lui corre avanti Corre indietro Fa spesso i suoi 10 km Anche di più E secondo me Conte Desidera un giocatore così Ragazzi sapete Che i giocatori sulla fascia Devono correre il doppio Nel sistema di Conte Perciò faccio anche fatica A vedere uno come Yang Come Cantreva Che sono anche già un po' vecchietti No ragazzi Questo qui è uno che C'ha un grandissimo spirito Di sacrificio E poi c'ha anche queste dote fisiche Cioè non solo mentalmente Vuole sacrificarsi Lui è anche capace di farlo Ragazzi Tecnicamente forte Molto rapido Ripeto Giocatore più rapido Della Bundesliga Fa parte di giocatori più rapidi Del mondo Di questo pianeta Da bambino Era attaccante Esterno offensivo Poi lo è diventato Da ragazzino E con 17 anni È diventato terzino Questo significa Che Hakimi C'ha veramente Il gioco offensivo Nel sangue ragazzi Non è Vi ricordate D'Ambrosio Che tutti dicevano Abbastanza affidabile In fase difensiva Poi ormai Non gioca neanche più Sulla fascia destra Adesso l'hanno un po' Accentrato Ok Però Vi ricordate Tutti questi retropassaggi Sempre tutti Questi passaggi indietro Anche di tanti altri Terzini No Lui finalmente Uno che attacca La profondità Uno che veramente Spinge tantissimo Abbiamo bisogno Di un giocatore così Ragazzi È veramente fondamentale Ragazzo Devo dire anche Molto umile Una cosa che per me È sempre molto importante Ci ricordiamo Ragazzi Che insieme Che insieme con Sancho Si hanno Veramente distrutto Ragazzi Spesso Sancho Si ha centrato Un pochino Ha portato via Scrinia Scrinia Perciò c'era tanto Spazio Su quella corsia Destra Hakimi Fece ancora Il terzino Destro Sì Perché poi dopo Ha giocato come Centrocampista Destro Dipende un po' Del sistema Del bus Adortment Anch'io Desidero Alcune volte Un po' Più di flessibilità Nel gioco di Conte Ma questo adesso Un altro discorso Comunque mi ricordo Molto bene Come spesso Sancho portava via L'uomo Creava spazio E poi c'era la situazione Dell'1 contro 1 Piraghi contro Sancho Scusate Piraghi contro Hakimi Non devo più dire Nient'altro ragazzi Ci ha umiliato Ci ha distrutto Ha fatto molto Molto male Però Sarebbe bellissimo Adesso vederlo Da noi ragazzi Il suo timing Per questi inserimenti È anche molto Veramente impressionante Perciò è un giocatore Anche molto intelligente I numeri parlano Per lui ragazzi 72 partite Per il bus Adortment 12 gol E 17 assist Veramente numeri Impressionanti Per uno Che ha giocato Spesso come terzino Cosa bella Anche lui Quasi mai infortunato In questa stagione È stato l'unico Giocatore del bus Adortment Che ha fatto Tutte le partite Ha giocato In ogni singola partita Tranne l'ultima Dove adesso È stato squalificata Però Corsa Bundesliga Purtroppo È già terminata Bayer Monaco Ha già vinto Perciò Non è neanche Stato più Così grave Quasi sempre In questa stagione Ha giocato Come centrocampista Destro Però L'ultima stagione Giocava più Come terzino Perciò ripeto Un giocatore completo Giocatore perfetto Per la nostra Corsia A destra Oppure anche Sinistra Lui può Veramente Giocare Tra per tutto Ragazzi Fatemi sapere La vostra opinione Io sono stracontento Un ragazzo Che mi piace A livello umano Mi ricordo Anche l'intervista Dopo la partita Dell'Inter Dove lui ha fatto Due gol Dove lui Proprio calmo Tranquillo Subito ha detto Merito È dei miei compagni Non solo il mio Grazie a loro Ho fatto questi gol In generale Io un po' L'ho osservato Ragazzo Ovviamente Molto tranquillo Non è uno Che parla Tantissimo Così Molto Molto Tranquillo Molto Utile Per il nostro Sistema Incredibilmente Rapido Tecnicamente Forte Forse in fase Difensiva Deve ancora Un po' Migliorare Uno dei Talenti Più grandi Africani Che esistono Veramente Tanta roba E poi lui C'ha voglia Di giocare Calcio Cosa molto Importante Se Real Madrid Non è sicuro Che lui Giocherà Tutte le partite Se lui Per questo motivo Sceglie Una squadra Come l'Inter Con tutto il rispetto Per la mia amata Inter Ma in questo momento Ovviamente Siamo dietro Il Real Madrid Ancora di anni Significa che questo ragazzo Ha veramente voglia Di giocare a calcio E questo è bello Ragazzi Lui mette il calcio Sopra di tutto Bellissima cosa Bellissima cosa Ci sono tanti altri Che perdono la testa Quando possono giocare O tornare In una squadra Come il Real Madrid Tutto Tutti i punti di vista Sarebbe una cosa Fenomenale Come scrivono Tutti i media Gianluca Di Marzio Eccetera Sembra fatto Mancano solo I dettagli Io ovviamente Che ho sofferto Tantissimo In questi anni Ripeto ragazzi Mi sono veramente Messo anche su Youtube A causa di questa Rabbia Da tifoso Semplice Che non potevo Fare niente Che ancora Non posso fare niente Ovvio Ma avevo questa rabbia Seguidemi anche su Instagram Seguido bene Bene Grazie a tutti